La gioielleria Pennisi compie 40 anni Guido, un traguardo importantissimo, un luogo storico di Milano. 40 anni sono un bel traguardo che abbiamo raggiunto grazie al, diciamo inizialmente, dovevamo ringraziare i nostri genitori che hanno aperto l'attività nel 1970. Dopodiché siamo subentrati io e mia sorella a continuare l'attività dei nostri genitori e adesso siamo la terza generazione perché sono entrati mio figlio, mio nipote, per cui vuol dire che l'attività è stata un'attività sicuramente fiorente. Da 40 anni rendete ancora più belle le donne milanesi e non solo. Come sono cambiati i gusti delle signore che vengono nel vostro negozio? I gusti cambiati relativamente perché devo essere sincero, da 40 anni a questa parte, sono cambiati diciamo forse il modo di vestire evidentemente e poi anche il tipo di gioielli tipo gli anni 20-30 che sono i gioielli più portabili, più godibili da parte delle signore milanesi e non solo, praticamente di tutte le persone che abbiamo avuto modo di conoscere e di frequentare che hanno apprezzato le nostre ricerche, la nostra fatica nel trovare la materia prima perché è molto complicato anche rinnovare l'assortimento con una certa qual velocità. In effetti possiamo anche dire che voi fate questa sorta di collezionismo, quindi una ricerca continua. Sì, siamo anche collezionisti ma purtroppo siamo molto più spesso venditori perché tante cose belle le vorremmo collezionare ma pensiamo sempre ai nostri clienti affezionati, appassionati ai collezionisti, a quel punto le cose più importanti e più belle le mostriamo ai nostri clienti in anteprima e questo è importante. La ricerca praticamente è un continuo per dar modo ai nostri collezionisti di poter scegliere e selezionare le nostre belle cose. L'affetto che Milano vi mostra si vede anche da questa serata dove ci sono molti volti noti. Sì, serata affascinante, emozionante perché il riconoscimento viene dato da tutte queste belle persone che hanno apprezzato i nostri sforzi e che sono venute a trovarci, a dare il loro contributo alla nostra azienda.